E' il momento della meditazione della parola. Questo pensiero di atmosfera, di attesa, anche se a volte è un po' buia. Abbiamo ascoltato la parola. La parola non ci lascia indifferente. Dio ha parlato a me, a te, ma non a voto. E vuole una risposta. Ti vuoi che per te? Una voce che grida tra le incertezze e la vita, la confusione interiore. Che fai? Raccogli la buona radizia. O sei un deciso tuo apporto dal verbo e nello spirito. E ti ho riuscito, sia anche questo pezzo di braccia e non come. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti.